Benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo del catalizzatore, dei pregi e difetti, di quello che si può fare, le modifiche che possiamo farci e i problemi che possono comportare queste modifiche. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento un like e di condividere questi video. Mi raccomando seguitemi anche sui social TikTok, Facebook e Instagram e da qualche giorno ho aperto il mio sito internet www.meccanicapertutti.com in cui troverete tutte le curiosità, tutti i video e uno shop con tutti i prodotti che io stesso ho testato e che ho raggruppato tutti nel sito internet. Parliamo quindi del catalizzatore. Il catalizzatore è uno di quegli elementi insieme a valvole GR, insieme all'ADBLU e al FAPEDIVBF che servono in sostanza a pulire i fumi di scarico dalle sostanze nocive all'uomo, quindi monossidio di carbonio, anidride carbonica, ossidio di azoto. Tutte queste sostanze grazie a questi elementi vengono modificate, vengono trasformate in anidride carbonica, acqua e azoto. Ognuno di questi elementi lo fa in maniera un po' diversa, ad esempio l'ADBLU utilizza una sostanza a base di acqua e urea per modificare i fumi di scarico. La valvole GR invece sfrutta il ricircolo dei fumi di scarico per rimetterli nel processo di combustione, quindi ricicla parte dei fumi di scarico. Mentre il catalizzatore è una sorta di filtro vero e proprio composto da celle. Il numero di celle dipende da quanto vogliamo filtrare i nostri fumi di scarico, ad esempio ad uso sportivo ci sono dei catalizzatori che però avendo meno celle ci danno come risultato una sorta di strozzatura inferiore dei fumi di scarico in uscita. Badate che il catalizzatore non viene tolto a livello sportivo del tutto ma per questioni di bilanciamento e di compressione dei fumi di scarico in uscita vengono utilizzati anche a livello sportivo. Invece nelle nostre automobili il catalizzatore serve proprio ad abbattere la quantità di sostanze nocive presente all'interno dei gas di scarico. Oltretutto svolge altri compiti molto importanti come l'abbattimento della puzza dei fumi di scarico. Un'auto che non ha montato un catalizzatore avrà un odore dei fumi di scarico molto più accentuato. Anche il colore dei fumi di scarico cambia senza catalizzatore avremo dei fumi di scarico più scuri quindi più verso il nero. Mentre con il catalizzatore avendo abbattuto gli idrocarburi a monte i fumi di scarico saranno sicuramente meno accentuati. I catalizzatori cambiano il loro processo di catalizzazione a seconda che il motore sia a gasolio o a benzina. Ricordiamo che i motori a gasolio sono quelli molto più inquinanti rispetto a quelli a benzina quindi i sistemi montati nei motori a gasolio sono innanzitutto più numerosi proprio perché hanno bisogno di più abbattimento delle sostanze nocive rispetto a un benzina. Nei motori a gasolio il catalizzatore abbatte gli NOx e li trasforma come la di blu in azoto e ossigeno. La conversione che si cerca di raggiungere è sempre quella. Il catalizzatore nonostante all'interno abbia un filtro non è che il filtro trattiene delle parti che rimangono all'interno ma avviene un processo di catalizzazione. Il processo di catalizzazione avviene perché all'interno del catalizzatore troviamo un elemento in ceramica che fa scattare il processo di ossidazione che trasforma quelle sostanze in un processo chimico che sfrutta anche il calore che si genera all'interno del catalizzatore. Le differenze tra un catalizzatore e l'altro sono date anche dal materiale con cui il filtro vero e proprio quindi questo filtro in ceramica è rivestito. La cottura in ceramica è rivestita da un involucro di metallo. I materiali che vengono utilizzati per questo rivestimento sono il platino, il rodio e il palladio. Quali sono i costi dei ricambi di queste parti qui? I costi dei ricambi sono abbastanza alti perché quando si rompe o bisogna comunque sostituire un catalizzatore siamo all'ordine dei 450 euro quando il catalizzatore è montato su una macchina piccola ricordo ai tempi quando avevo una Seat Ibiza se mi seguite lo sapete ci ho lavorato un sacco su quella macchina lì il catalizzatore quando mi si rompe online lo trovavo a 3-400 euro. Ci sono anche delle officine specializzate nella rigenerazione di questi filtri qui se ne trovano un po' meno a causa dell'aftermarket spesso non conviene più rigenerare una parte ma conviene direttamente sostituirlo. Purtroppo i costi del catalizzatore non finiscono qui il catalizzatore sopra e sotto quindi in entrata di gas di scarico e all'uscita di gas di scarico ha due sonde sono due sonde lambda vi ho fatto vedere anche in un video in passato lo smontaggio e la pulizia di queste sonde non hanno dei prezzi bassissimi in realtà il loro compito è quello di valutare la qualità del gas di scarico in entrata nel catalizzatore e all'uscita del catalizzatore così da monitorare se il catalizzatore funziona correttamente o meno quindi se filtra realmente questi gas o no a volte succede come è successo a me nella mia vecchia automobile che l'auto non sale di giri è strozzata in ripresa in accelerazione e si affoga se il meccanico è bravo collega il computer all'automobile mentre l'automobile è in movimento e ha questo tipo di sintomi intera che la sonda lambda registra una temperatura molto elevata all'interno del catalizzatore o questo perché? perché molto spesso capita che un vecchio catalizzatore si può rompere rompendosi spacca all'interno del suo involucro e ostruisce lo scarico contate che il catalizzatore è montato il più vicino possibile al motore e quindi se si rompe all'interno è un problema perché soffoca i gas di scarico e non permette di salire di giri all'automobile ai tempi il meccanico fece una manovra che in realtà non si può fare è illecita che vi sconsiglio che è quella di svuotare il catalizzatore con una punta di trapano grossa è arrivato all'interno del catalizzatore e l'ha praticamente distrutto tutto fino a svuotarlo completamente era rimasto l'involucro vuoto che cosa succede se svuotiamo e quindi se togliamo il catalizzatore? potremmo avere dei problemi a livello di centralina perché le sonde lambda registrano dei dati che sono errati personalmente nella mia automobile si accendeva sempre la spia di avaria motore la sonda lambda mandava un segnale alla centralina che faceva accendere la spia del quadro di avaria motore nel mio caso l'automobile andava molto meglio successivamente perché nonostante la spia accesa la centralina non bloccava nessun tipo di funzione per quanto riguarda il motore quindi il motore avendo i gas di scarico che erano più liberi di uscire un motore piccolino effettivamente dava la sensazione di essere più libera un po' più di spunto un po' più di brillantezza e questo me lo disse anche il meccanico stesso ai tempi che avrei sentito la macchina un po' meglio uno dei problemi che però si presenta quando togliamo un filtro di questo genere qui quello della revisione la revisione ragazzi non passa se togliamo il catalizzatore perché il catalizzatore fa un lavoro di sgrossamento molto molto elevato possiamo sostituire a livello sportivo il catalizzatore con dei catalizzatori che hanno meno celle ad esempio 200 ma anche con il 200 celle una revisione rischia di non passare perché 200 celle non filtrono abbastanza fumi di scarico si utilizza a livello sportivo perché a livello sportivo c'è bisogno di una compensazione dei fumi di scarico a livello di pressione quindi si utilizza più per un motivo prestazionale a livello di motore che per un motivo di ambiente in ambito stradale togliere il catalizzatore non ha molto molto senso se vi si rompe sostituitelo con un componente aftermarket che fate prima si spende poco e sarete in regola quella volta che avevo la 7 bizza la revisione mi è passata lo stesso perché avevo trovato un'officina che le revisioni le faceva un po' così e mi aveva aiutato a far passare questa macchina dato che io comunque l'avrei tenuta per altri sei mesi e poi l'ho sostituita con la dacia sandero che ho adesso ma mi serviva a far passare la revisione a questa macchina per farla circolare per qualche mese quello che avevo riscontrato io a livello di sintomi senza catalizzatore era proprio una brillantezza maggiore dell'automobile una puzza molto maggiore dei fumi di scarico e la macchina fumava un pochettino nero dato che si tratta di un motore piccolo e comunque a benzina il fumo che usciva dallo scarico oltretutto un'auto benzina ma la mia era benzina GPL i fumi di scarico non erano così neri e la differenza non era così eclatante come potrebbe però essere sicuramente un motore diesel un motore diesel se noi cominciamo a togliergli tutti i componenti che fanno il mestiere di abbattere gli NOx eccetera avremo dei fumi di scarico molto molto accentuati quindi ragazzi in sostanza il mio consiglio qual è? il catalizzatore non si tocca vi dà un sacco di problemi se lo toccate oltretutto rischiate che la disparità tra catalizzatore e non catalizzatore per i fumi di scarico porti a dover rimappare la centralina perché passiamo da una situazione in cui abbiamo un filtro che crea un certo tipo di bilanciamento dei fumi di scarico a un tubo dritto che potrebbe scompensare questa cosa quindi poi dobbiamo andare ad agire a livello di centralina non state a montare un catalizzatore sportivo se non avete una macchina ad uso sportivo perché anche qui il senso ce n'è poco quindi lasciate la macchina originale che è meglio anche perché poi la revisione comunque non passa ragazzi spero che il video sia stato utile io vi lascio tutti gli altri miei video vi ricordo che ho un nuovo sito internet online da qualche giorno www.meccanicapertutti.com andate a dargli un'occhiata seguitemi sui social TikTok, Instagram e Facebook vi lascio tutti i link in descrizione noi ci vediamo alla prossima ciao